Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di come la Juventus sia molto abile nell'arte del complicarsi la vita da sola. Juventus Tottenham 2-2. Risultato che è brutto, cioè secondo solo per bruttezza alla sconfitta in casa, perché chiaramente come sappiamo pareggiare in casa con due gol, quindi non 0-0 che magari ci può stare, cioè quei due gol là potrebbero molto pesare nel momento in cui vai in Inghilterra e pareggi 1-1, cosa non improbabile in quanto comunque il Tottenham in casa nostra è una squadra da battere, perché sicuramente sarà molto difficile a casa loro. Diciamo che quindi la qualificazione ai guardi finali non si mette benissimo, certo ci sono tante cose buone e positive, la Juventus comunque ha fatto delle cose belle, ma anche tanti errori e tanti, non tanto sottovalutazione dell'avversario stesso, ma quanto errori gravi che in Europa si pagano. Come dico spesso, gli errori che in campionato magari non paghi, in Europa li paghi tutti. 16 partite con un gol solo subito, due gol nella prima partita europea, con una squadra più forte, che secondo me come valore in campo è più forte di quelle italiane, forse più o meno si ha giocato con Napoli, per il resto comunque in quelle partite là ho stinguto al senso, se giochi in Italia chiaramente può andare in un modo, perché in Italia il tatticismo vince sempre, in Europa talvolta succede questo. Poi diciamo anche che comunque i gol come arrivano? I gol nostri arrivano con una punizione, nel secondo minuto con svista della difesa del Tottenham, il punto debole del Tottenham è la difesa, totalmente, e noi abbiamo sfruttato poche volte queste cose qua, la seconda volta è stato ovviamente Davies che prende Berlandeschi e questo rigore lo battiamo, poi parliamo anche di quell'altro rigore non appunto andato in rete, e quindi lì dove sbagli poi paghi, perché chiaramente il gol sbagliato, il gol subito. Il Tottenham davanti è molto forte, per molti tratti della partita ha dominato, diciamo che la Juventus ha fatto metà tempo del primo e più o meno 15-20 minuti del secondo, per il resto il Tottenham ha fatto abbastanza la partita e la Juventus ha cercato di sfruttare perlomeno le partenze, non riuscendo ciò per errori nostri o per comunque parato del portiere, l'Urissa è un portiere di livello assoluto, non lo conosciamo solo oggi. Partiamo al principio, 4-2-3-1, la UEFA propone una grafica con 4-3-3 con Berlandeschi e Mezzala, sappiamo che Allegri talvolta fa questi trasformazioni qua, ma di per sé quello che è sicuro, a prescindere da quello che sia l'interpretazione del ruolo, è che oggi erano con un centrocampista in meno, perché i centrocampisti erano due, che dire, piani, per il resto si può mettere anche Berlandeschi o quello che è, ma resta pur sempre Berlandeschi, non un centrocampista, quindi oggi abbiamo giocato con due centrocampisti, certo Maturi è chiaramente infortunato, evidentemente non si vede in Marchese come Mezzala, e Sturaro ha fatto scelte diverse rispetto a quelli di Sturaro che sembrava quella più vicina a realtà. 4-2-3-1, la sappiamo, la formazione con Buffon, De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alexandro, Chiedera, Pianice, Bernadeschi, mentre dove volete, Douglas Costa, Manzucchi, Ceguay. Partiamo da chi, secondo me, oggi viene promosso a pieni voti, De Sciglio. De Sciglio ha fatto una partita assuntuosa, secondo me, molto buona, in fase difensiva è anche offensiva qualche volta. Benatia, Chiellini, non benissimo, alla fine i gol arrivano, perché Chiellini che dà quella che regala la punizione, nel secondo gol, quindi, l'errore c'è, e sul primo gol qualcuno non si è visto il taglio di Kane, attualmente non mi ricordo, perché è già evidente l'azione, ma qualcuno è sicuramente sbagliato. Alexandro, benissimo, i due attazioni molto bene, Alexandro anche, è stato criticato da me, da tutti anche per questi primi sei mesi, così così, perché questa sia la partita migliore di Alexandro da agosto a questa parte, contando anche il libro dell'avversario, chiaramente, quindi Alexandro promosso. Pjanic, Chedira, Chedira un po' così così, Pjanic, così così, nel momento in cui deve fare ripartire azioni, troppo lento, avrà molte qualità, sono in dubbio, però quando uscire da certe situazioni di gioco pericolose devi darti una mossa, altrimenti il pressing degli inglesi si fa sentire subito, è quello che è successo in diverse occasioni. Berlandeschi molto bene, forse Berlandeschi è un giocatore che ci deve fare e si vede molto che ci deve fare, e talvolta le cose le riescono molto bene, la grascosta forse è migliore in campo. Mazzuchic è anche acciaccato, abbiamo visto, è uscito anche un po' per quello, non benissimo, Mazzuchic quest'anno sopra molto la posizione, Higuain molto bene se non fosse che si è mangiato due occasioni nitide, una rigore che è forse quella più solare e su questo bisogna anche fare un pensierino, nel senso che Higuain ha uno scorre negativo di rigori sbagliati altissimo, il fatto è che non ha fatto uno oggi, ha segnato uno, tra l'altro l'ha segnato con deviazione del portiere, quindi lo stava anche per prendere gli olis tra l'altro, il secondo è un rigore da, ok si può sempre sbagliare, ci sono i casi in cui si sbaglia, però Higuain è abbastanza recidivo su questo discorso qua, quindi magari non è il discorso che può capitare, è il discorso che gli sbaglia perché Higuain, quindi ovviamente non c'era Dybala, ma magari un Pjanic o un Greskosta potevano fare meglio, non si sa, potrebbero sbagliare anche loro, però credo che scegliere Higuain come vice rigorista dopo Dybala, secondo me è una scelta molto intelligente, perché lo sappiamo che Higuain ne fa uno ma ne sbaglia un altro, e Dybala ne sbagliati ma chiaramente in proporzione sono molti di meno. E detto questo poi abbiamo finito la cosa. Poi è trasturato che forse l'alternativa che tutti non aspettavamo perché vogliamo stare in campo, ma perché forse a un certo punto si è vista come il centrocampo difettasse, perché in effetti oggi, a un certo punto della partita, quando ha iniziato a soffrire il pressing e il palleggio, il possesso palla del Tottenham, il problema è al centrocampo, il primo gol un po' deriva anche da questo, però è al centrocampo, e lo sponso già che ci gioca a 3.5, mancava Mazzuoli, e oggi si è visto, si è sentito la sua mancanza. A questo punto forse è arrivato un po' tardi, Allegri col cambio con Sturaro, togliendo appunto Mandzukic, quindi Sturaro, Bentancur e Pjanic, perché in effetti poi ha letto un po' di più il centrocampo, bisogna dirlo, quindi forse quella è la strada, lo spavamo già, soprattutto quando qualcuno a sinistra difetta. A destra ha giocato molto bene Bernadeschi e De Sciglio, a sinistra ha giocato bene solo Alexandro, quindi direi che ovviamente pendeva un po' a sforo della persona a sinistra, infatti a destra Eriksen, quando ci si spostava sulla sua parte, di De Sciglio e Bernadeschi non ha fatto molto, ma i miei centrali sì, e ovviamente a sinistra Oriè c'era in pare, e la Mela quando si spostavano, insomma la Mela e l'altro esterno, insomma alla fine hanno giocato, hanno anche fatto qualcosa di più. Questo è perché manca Mandzukic che non è al top, lo sappiamo già. Detto questo ragazzi, la partita che a me mette molto preoccupazione, devo dire la verità, perché sì, perché ragazzi oggi anche il 2-1 andava bene alla fine fine, ok, poi c'è il gol e è subito, amen, però è pur sempre una vittoria, un 2-1, quindi magari Mela, fai anche un 1-0, fai un 1-0, cosa improbabile, ma la fai. Adesso però bisogna per forza vincere, e non c'è alternativa, se non fare un 3-3, ma è una cosa un po' difficile, quindi bisogna vincere per forza. Quante probabilità ci sono di vincere in una vittoria in una partita come questa? In caso allora, loro, ok che recuperiamo Dybala, recuperiamo un paio di giocatori noi, ma loro recuperano l'Underwild, lì penso che cosa ci mancava, a prescindere che recupero meno, non credo che sia quella differenza se non un Matuidi, però Matuidi forse non lo recuperiamo neanche, quindi magari il problema resterà. Non sono molto ottimista, io come sapete sono molto ottimista da riguardo, però talvolta sarà un'impresa, ecco questa sarà un'impresa, perché secondo me il Tottenham è una squadra battibile, fattibile in due, però ovviamente vincendo in casa, e non con un pareggio con due gol a testa. Speriamo bene, ovviamente io lascio sempre la porta aperta tra la speranza, però l'allelismo è che abbiamo preso due gol in casa, in modo così stupido anche, almeno per quanto riguarda almeno uno dei due, e quindi potremmo pagare caro il prezzo di questa cosa qua. Speriamo di no. Come sempre, in formazione della roba scendere, ci vediamo al prossimo video che sarà, quel che sarà, e dai ragazzi, mettiamoci la tutta che ottavi solo non va bene, non può esserci, non può essere un obiettivo valido per questa squadra qua. Ciao. Paura 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 Grazie a tutti.